Il valuto dei risultati delle votazioni per denezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Evocati di Bari svoltesi nei giorni 22, 23, 24 e 25 2019, così come certificato dell'allegato di un gruppo cartaceo relativo al voto espresso di complessivi 3.476, voto infane di 3.462 e anche 4.15 con il sistema elettronico trasmesso dalla Ditta delle Vittiche di Milano dal 5 gennaio 2019 che è parte integrante e incendibile del presente per Bari, proclama eletti gli avvocati e gli avvocati all'allegato B, così attribuito nel numero dei consiglieri previsto per l'Ordine dell'Ordine degli Evocati di Bari, l'Ordine degli Evocati di Bari, l'Ordine del Dotto della legge professionale numero 247 del 2012 e le successive modificazioni che è parte integrante e incendibile del presente per Bari, proclama eletti Amodio Francesco, Ariodante Valeria, Bellomo Antonio, Venegiano Antonio, Carrozzini Pietro, Cicciolla Leonardo, Dalfino Giuseppe, Lelitto Carlo, Di Cagno Cavia, Fioretti Gaetano, Gargano Nicola, Giancaspro Girolamo, Guerra Eme Antonio e Anna Maria, Leone Mariella, ovvero Pietro Nicola Antonio, Dettoghiero, Maria Alfredo, Panaro Gabriella, Parole Lucinda, Pezzuto Antonella, Selvagi Nicola, Stefani Giovanni, Tinto Clemi, Gianni Serena, Valente Roberta, Pertanze Samuoli, Zandti Nicola, Graziearte... Grazie.